Se volete acquistare i crediti passate da vipcoinfifa.com e in più con il codice coupon MALATI15 avrete il 5% di crediti in più. Bella! E bella a tutti ragazzi, qua The Beast dello staff di Noi Malati di Foot. Siamo qui quest'oggi con un nuovo video per la player review di un giocatore veramente molto forte, Axel Witzel in form. Il 26enne centrocampista dello Zenith si presenta con un'ottima carta, ovvero con dei valori abbastanza alti, perché oltre la velocità 72, poi vedremo durante la player review come si comporta la velocità, si presenta con un 75 di tiro, un 80 di passaggio, un 85 di dribbling, un 76 di difesa e un 83 di fisico. Come vedete le statistiche in game sono abbastanza alte, fra le tante notiamo l'86 di passaggi corti, l'87 di controllo palla, l'89 di agilità, l'85 di dribbling, oltre l'84 di intercettamenti e l'83 di reazione, oltre ad altre statistiche abbastanza buone. Infatti una delle cose che mi è piaciute di più di questo giocatore è la completezza, però andiamo più in dettaglio a vedere i sui pro. Il primo pro è assolutamente il passaggio, il passaggio è caratterizzato da un 72 di cross, da un 81 di passaggi lunghi, 86 di passaggi corti e un 81 di visione. Specialmente i passaggi lunghi sono abbastanza falsi, perché mi sono piaciuti veramente tanto, infatti come vedete nelle clip fa molti passaggi e veramente giocare con lui squadra vi dona una fluidità incredibile, anche perché lo usate in un centrocampo abbastanza di qualità, con Marchisi e Pogba come avete visto. E quindi questo è il primo pro, veramente molto importante per un centrocampista centrale specialmente. Passiamo al secondo pro, ovvero il dribbling, che si divide in un 87 di controllo palla, un 85 di dribbling, un 89 di agilità e ben 4 stelle di skill. Allora, questo giocatore oltre ad avere un ottimo passaggio ha anche un ottimo dribbling, perché vi servirà molto quando dovrete smarcarvi, cioè non è che potrete trovare il campo sempre libero. Quindi quando dovete smarcarvi, magari non usando proprio le skill, ma anche semplicemente una finta di tiro, lui lo saprà fare benissimo grazie anche, soprattutto all'89 di agilità e anche un 85 di dribbling secco, che lo rende un giocatore abbastanza, diciamo, buono nel dribbling, nonostante sia un centrocampista. Passiamo all'altro pro, ovvero la difesa. La difesa si divide in 71 di marcatura, 72 di standing tackle, 74 di sliding tackle, 77 di posizionamento e 84 di intercettazioni. Veramente prezioso questo giocatore in fase difensiva, perché quando vi servirà una mano per recuperare gli avversari, lui ci sarà sempre, grazie anche al suo walklet, ovvero normale normale, che lo renderanno, lo faranno giocare praticamente quando vi servirà in attacco e quando vi servirà in difesa, però senza abbondare troppo. Secondo me questo è il walklet perfetto per un giocatore come lui. Comunque, ottimo soprattutto nelle intercettazioni, infatti ha un ottimo valore 84, giocatore che mi è piaciuto veramente tanto dal punto di vista difensivo, anche se secondo me come cdc non rende come cc, infatti come l'avete visto l'ho usato cc in quella fantastica squadra, aggiungerei. Ultimo pro, il fisico, 81 di strength, 80 di aggressione e 83 di reazione. Rendono questo giocatore, grazie anche alla sua altezza, ovvero 186 cm, che non è niente male, lo rendono praticamente un giocatore molto difficile da buttare a terra, ma specialmente quando andrete in dribbling o a difendere, la maggior parte dei giocatori farà molta fatica per sovrastarlo fisicamente. Quindi, riassumendo i pro e contro, passaggio dribbling difesa fisico, contro, sinceramente non ho trovati, prezzo abbastanza basso, anche se è molto raro, infatti io l'ho dovuto comprare per forza di mattina. Quindi il video sta per finire, come vedete voto 9 perché questo giocatore è fantastico. Spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando lasciate un like, un commento, iscrivetevi e bella!